Si chiama Mario Chiuto, ma sembra una calamita capace di attirare alleati in vista delle elezioni regionali dell'anno prossimo. Il percorso fatto dal sindaco di Pizzo, presidente regionale dell'Anci, Gianluca Callipo, potrebbe essere seguito da altri amministratori e rappresentanti istituzionali calabresi, anche di centro-sinistra. Filtra, dagli ambienti più vicini al sindaco di Cosenza, assieme a qualche nome, anche se con mille cautele, perché manca molto, al voto e quindi la partita è ancora tutta da giocare. Ci sono dei nomi che in questa fase fanno più clamore di altri, considerato la loro provenienza. Come Callipo, che dovrebbe essere candidato nella lista degli amministratori, più di un dialogo col gruppo Chiuto, avrebbe avuto pure l'ecchiesa assessore regionale Federica Rocesano, rovidamente messa alla porta, dalla giunta del presidente Mario Riverio. In avvicinamento al primo cittadino di Cosenza, è indicato il sindaco di Petiglia Policastro, Amedeo Nicolazzi e altri ancora nel Crotonese, come nell'Ametino a Vibbo come Lungo, Loionio Cosentino, tutti pronti a salire sul carro azzurro civico dell'architetto che ha lanciato da tempo il leguanto di sfida al governatore in carica Mario Riverio, il quale però non ha nessuna intenzione di lasciare spazio all'avversario, anzi ha lanciato la campagna d'autunno mirata, anzitutto, a mettere in vetrina quanto fatto nei quattro anni di governo regionale e il Movimento 5 Stelle non pervenuto, almeno per il momento.